Io penso che ho sentito un gol per l'inclusione sociale, perché come ha detto di sempre dentro Loconte, da nessuno vi c'è normale. I disabili vanno trattati come non vanno dotati e la mia associazione si sente integrata in questo ottimo evento sportivo. Una giornata di molta allegria e felicità, questo è il calcio, anche essere felici, anche avere un momento di gioia tra noi. Questo è il nostro successo, è dovuto all'inclusione delle persone che vengono facilmente escluse perché non hanno quelle performance richieste dai contesti sportivi che professano in maniera molto più di livello agonistico il risultato da conseguire. La quattordicesima edizione di Rimettiamoci in Gioco Sportivamente va in questa direzione, cercare di non escludere nessuno, favorire una partecipazione di sano agonismo, non competizione e soprattutto di divertirsi tirando due calci al pallone. Il torneo di calcio a sei è caratterizzato dal coinvolgimento di gruppi di tutto il territorio regionale. Tra questi abbiamo le comunità che svolgono servizi specifici per quanto riguarda i progetti riabilitativi e abbiamo la cooperativa Osiride di San Pietro Vernotico, la città solidale, abbiamo Giovinazzo presente anche qui in questo centro di Bitondo, abbiamo la cooperativa Antropos per salire poi al nord dove ci sono dei centri diurni Itaca e Arcobaleno della Asle di Foggia, l'associazione Tutti in Palla, l'associazione La Grande Quercia, abbiamo Giga 2000 di Taranto. In pratica abbiamo un coinvolgimento di tutti i territori regionali perché possiamo promuovere soprattutto la salute che è un bene per tutti e l'Ampis ha questa sua identità precisa, utilizza lo strumento dello sport anche nell'ambito della pallavolo, facciamo passeggiate della salute e nello stesso tempo divertendo queste persone noi riusciamo anche a confrontarci con i soggetti istituzionali del territorio perché le questioni che ruotano attorno al benessere delle persone oggi attenziona sempre di più perché il disagio è molto più diffuso e i numeri a livello mondiale lo rimandano che in realtà molte persone soffrono di un disturbo psichico che è tra le prime tre malattie mondiali invalidanti.